Le fiamme hanno avvolto la moto dopo l'impatto violento con l'asfalto. Gravissimo incidente stradale ieri pomeriggio a Sant'Urbano, lungo la strada provinciale 7 in località Balduina. Un motociclista ha perso il controllo della sua due ruote finendo a terra. Nello schianto il mezzo ha preso fuoco sul posto. Sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme. Il 37enne alla guida della motocicletta è stato subito soccorso dai medici del 118 che l'hanno trasportato in elicottero in ospedale. Le sue condizioni sono molto gravi ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.